Nel giorno in cui Bruxelles vede l'esordio di Ilaria Salis dopo 15 mesi di carcere a Budapest tra i banchi del Parlamento Europeo dell'Alleanza Verdi Sinistra, a mille chilometri di distanza, il Consiglio regionale della Lombardia approva la cosiddetta mozione Salis. Fratelli d'Italia chiede al governatore Attilio Fontana il pignoramento del suo stipendio da europarlamentare per risarcire il debito che avrebbe con l'Aler, l'ente regionale che si occupa delle case popolari su quei 90 mila euro per 16 anni di occupazione. 45 voti a favore e 19 contrari. Sulla mozione da Bruxelles la Salis risponde così. Credo che i movimenti di lotta per la casa cerchino di rispondere a un problema a cui le istituzioni non sono in grado di rispondere. Poi questa cosa dà fastidio, è scomoda. Rivendica la lotta per la casa e le occupazioni, parole alle quali si unisce la difesa del leader di sinistra italiana. 90 mila euro per un accertamento fatto oltre 10 anni fa, siamo oltre il ridicolo, dice Nicola Fratojandi. Io godo a radioimmunità ma l'Ungheria può chiedere la revoca e in quel caso dovrà esprimersi il Parlamento europeo e spero che si schiere a difesa dei diritti fondamentali e delle presunzioni di innocenza, aggiunge poi la militante antifascista promettendo di dedicare il suo mandato ai più deboli come detenuti, migranti e precari. Ma la sua elezione a Bruxelles continua a essere indigesta alla destra. Paghi i debiti, quelle occupazioni sono reato, dice la Lega. Non è così strano chiedere di pagare debiti se poi otterrà una modifica delle leggi e la sua lotta sarà legittima, fa eco il governatore Lombardo Fontana. Non condividiamo la sua posizione ma questa mozione è pasticciata dai banchi delle opposizioni, PD e Italia Viva, mentre dal partito che la sostiene le diverse posizioni di Fratoianni e di Bonelli che dice io non occuperei mai una casa.